Percy. A sinistra! Percy trascinò Annabeth menando colpi per aprirsi un barco in mezzo alle Rai. Probabilmente si attirò una decina di maledizioni addosso, ma lì per lì non se ne accorse e continuò a correre, col dolore al petto che divampava a ogni passo. Sfrecciava in mezzo agli alberi, velocissimo, malgrado la cecità di Annabeth. Si rese conto di quanto lei facesse affidamento su di lui. Era certa che l'avrebbe tirata fuori da quel guaio. Non poteva deluderla, ma come sarebbe riuscito a salvarla? E se fosse rimasta cieca per sempre? No. Soffocò un'ondata di panico. Avrebbe trovato un sistema per curarla dopo. Prima dovevano fuggire. Ali di pipistrello sbattevano nell'aria sopra di loro. Sibili infuriati e lo sgambettare di zampe artigliate, fecero capire a Persi che i demoni erano alle loro spalle. Mentre oltrepassavano uno degli alberi neri, affondò la spada nel tronco. Lo sentì cadere e subito dopo udì il piacevole scricchiolio di diverse decine di Rai, che si spiaccicavano a terra. Se un albero cade nella foresta e schiaccia un demone, l'albero viene maledetto. Persi abbatté un altro tronco e poi un altro ancora. Guadagnarono qualche secondo, ma non abbastanza. All'improvviso l'oscurità di fronte a loro si infittì. Persi capì appena in tempo cosa significava. Afferrò Annabeth, un attimo prima che precipitassero tutti e due in un baratro. «Cosa c'è?» gridò Annabeth. «Un baratro!» rispose Persi ansimando. «Un grande baratro!» «Da che parte allora?» Persi non riusciva a scorgere quanto fosse profonda lavoragine. poteva essere alta 3 metri o 300. Non c'era verso di capire cosa ci fosse in fondo. Potevano saltare sperando per il meglio, ma dubitava che il meglio accadesse mai nel tartaro. Perciò le scelte erano due, a destra o a sinistra, seguendo l'orlo del baratro. Stava per scegliere a caso quando un demone alato calò davanti a lui, volteggiando sopra il vuoto con ali di pistrello, appena fuori dalla portata della spada. «Avete fatto una bella passeggiata?» domandò la voce collettiva, riecheggiando tutto intorno a loro. Persi si voltò. Le arai si riversavano a frotte fuori dalla foresta, formando una mezzaluna intorno a loro. Una afferrò per un braccio Annabeth, che gemette per la rabbia, scaraventò il mostro a terra con una mossa di giudo e gli piombò sul collo, come avrebbe fatto un wrestler professionista. Il demone si dissolse, ma quando si rimise in piedi, Annabeth era sgomenta e spaventata, oltre che cieca. «Persi!» gridò, con il panico che le si insinuava nella voce. «Sono qui!» Persi tentò di metterle una mano sulla spalla, ma Annabeth non era dove pensava lui. Tentò un'altra volta, però scoprì che lei si trovava a qualche metro di distanza. Era come cercare di afferrare qualcosa in una cisterna d'acqua, con la luce che sposta l'immagine. «Persi!» Annabeth aveva la voce incrinata. «Perché mi hai lasciato? Non ti ho lasciato!» Il figlio di Poseidone si girò verso le arai, con le braccia che tremavano dalla rabbia. «Cosa le avete fatto?» «Non le abbiamo fatto niente!» risposero le arai. «La tua amata ha scatenato una maledizione speciale, un pensiero amaro da parte di una persona che hai abbandonato!» «Tu hai punito un'anima innocente lasciandola nella solitudine! Adesso si è avverato il suo desiderio più esecrabile! Annabeth prova tutta la sua disperazione! Anche lei morirà sola e abbandonata!» «Persi!» Annabeth spalancò le braccia, cercandolo. Le arai indietreggiarono, facendola barcollare alla cieca fra le loro schiere. «Chi ho abbandonato?» domandò Percy. «Io non ho mai...» All'improvviso, fu come se il suo stomaco fosse precipitato nel baratro. Le parole gli riecheggiarono nella testa. Un'anima innocente, sola e abbandonata. Gli tornò in mente un'isola, una grotta illuminata da cristalli che emanavano una luce soffusa. Un tavolo da pranzo sulla spiaggia, servito da invisibili spiriti dell'aria. «Lei no!» mormorò. «Non mi avrebbe mai maledetto!» Gli occhi delle arai si confusero l'uno con l'altro, come le loro voci. Il torace di Percy cominciò a pulsare. Il dolore al petto era peggiorato, come se qualcuno vistesse lentamente rigirando un pugnale. Annabeth vagava fra i demoni, chiamandolo disperata. Percy avrebbe voluto correre da lei, ma sapeva che le arai non glielo avrebbero permesso. L'unico motivo per cui non l'avevano ancora uccisa è che si divertivano a vederla soffrire. Percy strinse i denti. Non gli importava quante maledizioni avrebbe potuto subire. Doveva tenere quelle vecchie magere concentrate su di sé e proteggere Annabeth il più a lungo possibile!» Gridò come una furia e attaccò.